Il ritorno della corrida è ufficiale. Il celebre programma ideato da Corrado negli anni 60 torna sul piccolo schermo, questa volta sul canale 9 e con Amadeus come conduttore. Tuttavia a pochi giorni dal debutto arriva una sorpresa inaspettata. Il giorno della messa in onda viene cambiato. Inizialmente previsto per lunedì 4 novembre, il programma verrà trasmesso mercoledì 6 novembre. Questa modifica potrebbe essere stata dettata dalla volontà di evitare il confronto con il grande fratello di Alfonso Signorini su canale 5 e con altri programmi di successo come Jalapa Show su TV8. Il nuovo giorno di trasmissione vedrà la corrida sfidare Jerry Scotti con Io Canto Generation in onda sempre su canale 5. La nuova edizione della corrida dovrebbe durare otto puntate, con la possibilità che l'ultima venga posticipata a causa delle festività natalizie. Amadeus si prepara a condurre uno spettacolo ricco di talenti provenienti da tutta Italia, pronti a esibirsi in canti, balli, poesie e performance stravaganti. Il pubblico in studio avrà il compito di giudicare le esibizioni, applaudendo o manifestando dissenso con fischi e urla. Amadeus, noto per la sua esperienza televisiva, si prepara a guidare il programma con il suo stile unico, ma resta da vedere se riuscirà a conquistare il pubblico come ha fatto in passato. Resta solo da attendere il 6 novembre per scoprire cosa ci riserverà il ritorno.